ciao a tutti sono bruno lei alessia mia moglie abbiamo soffruito dei servizi di samovar abbiamo scelto una crociera una settimana di vacanza direi i relax per staccare dalla quotidianità dal lavoro dallo stress quotidiano e abbiamo così fatto questa esperienza chiamata esperienza fantastica con msc siamo a bordo della grandiosa sono stati tutti disponibili ad ogni nostra richiesta nostra nostra informazione l'esperienza che stiamo vivendo sulla sulla nave qui a bordo veramente fantastica e devo dire anche viste le questioni legate al covid alla pandemia anche qui sicurezza su tutto quindi la cosa importante le varie misure di sicurezza che la società msc riesce a garantire effettivamente ed è in modo efficiente ed efficace ancora un grazie a maurizio a tutta samovar per averci supportato nelle nostre decisioni perché noi anche l'anno scorso abbiamo preso questa decisione di fare un'esperienza in viaggio di nozze con la crociera grazie sempre alla disponibilità e alla competenza di maurizio di tutta l'agenzia quindi noi siamo ancora qui a ringraziarlo e a ringraziarvi tutti tutto lo staff e vi mandiamo i nostri più cari saluti e veramente vi affiderete a mani certe e mani sicure per le vostre vacanze un saluto a tutti grazie ciao ciao ciao